A Cala d'Oliva il boss mafioso Totorina si sentiva sepolto vivo. Come lui, il gruppo storico dei fondatori delle BR ha vissuto la peggiore prigione nel carcere di massima sicurezza di Fornelli all'Asinara. E prima ancora, durante la Grande Guerra, su quella zolla tra Sardegna e Corsica, trasformata in campo di prigionia, sono morti oltre 7000 soldati austro-ungarici. Per oltre un secolo, luogo di segregazione, quarantena e detenzione, l'isola adesso rivive per la seconda edizione di The Photo Solstice, le giornate di fotografia all'Asinara, campus internazionale di alta formazione promosso dalla Fondazione di Sardegna. Il parco dell'Asinara esiste ormai da decenni, è conosciuto per la sua bellezza e per la sua natura. Il progetto della fondazione è un progetto che intende contribuire attraverso un'iniziativa che ha come obiettivo quello della valorizzazione culturale anche dello spazio, del posto. Dove c'erano il sanatorio e il carcere, oggi ci sono un parco e una grande agora per recuperare il senso del bello smarrito negli anni del 41 bis. Per tre giorni una comunità di 100 persone, composta da fotografi, filosofi, scrittori, cineasti di livello internazionale, si è insediata temporaneamente nelle ex celle e negli alloggi disponibili. Al centro del progetto, a cura del fotografo, nonché direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Londra, Marco De Logu, la commissione tra le arti. Filosofia, letteratura, cinema, arte contemporanea e in più penso che l'Asinara come destinazione a una scuola di alta formazione sia una cosa meravigliosa. Undici diramazioni penitenziarie schiacciate dal confine liquido del mare, terra sicura per Falcone e Borsellino che all'Asinara, alla seconda Alcatraz, scrissero gli atti del maxiprocesso. Luogo che conobbe i peggiori criminali e da dove solo l'ex latitante sardo Matteo Boe riuscì a fuggire a bordo di un gommone. Il contrasto tra natura incontaminata e archeologia penitenziaria è l'elemento colto dallo scrittore Edoardo Albinati, premio strega 2016, che ha insegnato a Re Bibbia ed è un profondo conoscitore della vita dietro le sbarre. È molto forte il contrasto che c'è tra il paesaggio bellissimo e violento e questi luoghi dove si sa essersi concentrato tantissimo dolore, sofferenza, anche in qualche caso riscatto, quindi diciamo è un'impressione sconvolgente.